Benvenuti a un nuovo appuntamento con il radio giornale bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di lunedì 15 marzo 2021. Coronavirus, sono 43 nuovi positivi registrati ieri in provincia di Belluno, a quota 1177 il numero degli attualmente contagiati, 63 le persone ricoverate, 37 a San Martino di Belluno, di cui 4 in terapia intensiva, il 15 al Santa Maria del Prato di Feltre, con 2 soggetti in rianimazione. Sempre a Feltre ci sono anche 3 pazienti all'ospedale di comunità, 8 all'ospedale di comunità del capoluogo. Nelle ultime 24 ore nessun decesso nelle strutture ospedaliere dell'Ursna numero 1 Dolomiti, questi dati aggiornati ieri alle ore 17. Da oggi intanto in tutto il Veneto scatta la zona rossa. Prosegue la campagna vaccinale che ieri ha coinvolto le persone nate nei 1940. 1914 i soggetti vaccinati. In totale le dosi finora somministrate dall'inizio della campagna sono state 24.323, di cui 16.733 come prime dosi. 7.590 le persone che hanno completato il ciclo. I dati dell'Ursna numero 1 Dolomiti sono aggiornati a ieri mattina. E sempre a proposito del programma di vaccinazioni, l'azienda sanitaria comunica che in questi giorni il CUP sta chiamando gli oltreottantenni non ancora immunizzati per un appuntamento entro il 22 di marzo. Non bisogna pertanto tenere conto, precisa l'Ursna, dell'appuntamento dato con lettera poiché le emissive sono state inviate prima della nuova disponibilità di vaccini e del potenziamento del piano di somministrazioni. Cambiamo argomento, auto in fiamme. Ieri mattina a Faradalpago ad accorgersi di quanto stava accadendo un passante che ha allertato i vigili del fuoco, rivenuto all'interno del mezzo il cadavere carbonizzato di Maglio Graziani, 78enne, residente a Rivine Lago in provincia di Treviso. Sulla caduto indagano i carabinieri coordinati dal PM Simone Marcon. Intervento del soccorso alpino ieri mattina per uno scialpinista infortunatosi in Val Popena. Sotto la neve e le raffiche di vento, l'uomo, un 65enne di Treviso, è stato raggiunto dall'elicottero del Suome accompagnato all'ospedale di Cortina. E infine lo sport hockey successo dell'Afrocortina che si aggiudica il recupero della gara rinviata lo scorso 4 marzo contro il Salisburgo. 6 a 4 è risultato finore a favore degli ampezzani. Vittoria che garantisce il quinto posto in Alps League. È davvero tutto per questa edizione del radiogiornale bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsincuota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'associazione Belonesi nel mondo.